Benvenuti alla nuova puntata di Mikado sull'All-Life Radio. Oggi ho un ospite speciale che poi vi presenterò e adesso farò una mezz'oretta dove farò ascoltare qualche mio disco e poi ci sarà lui e sveleremo chi è. Buon ascolto! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. bene. e a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. . a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 a tutti.